Mezzi pesanti sotto la lente di ingrandimento di polizia locale e polizia stradale in un'operazione congiunta che ha portato ad una serie di controlli su strada principalmente lungo il raccordo autostradale all'uscita di Arezzo del casello dell'autosole. 15 mezzi controllati, in particolare a uno di questi è stato contestato il trasporto di prodotti alimentari che avrebbero dovuto essere mantenuti in un regime di temperatura adeguata con l'apparecchiatura rifrigerante in funzione e l'idonea classificazione ATP. Gli alimenti erano invece trasportati irregolarmente, un comportamento che oltre ad essere punito con una multa di 3.000 euro ha comportato anche la distruzione dei prodotti alimentari. Un altro mezzo pesante utilizzava invece un emulatore elettronico per falsificare le emissioni inquinanti. Il dispositivo è stato immediatamente sequestrato. Oltre a questi due casi ci sono state svariate violazioni al codice della strada dall'omissione o il non corretto inserimento dell'attività del mezzo, la più frequente, alla guida senza la scheda tachigrafica e ancora alla guida con veicolo in sovraccarico.